32 milioni. Mi manca un uomo. L'ultimo colpo Mi avevi detto che avevi chiuso. È per salvare suo figlio. Per la tua famiglia. Andiamo, andiamo! Stai giù! Agente ferito! Vai, vai, vai! La sparatoria è avvenuta a North Hollywood. Cosa volete? La prendiamo in prestito. In prima visione Italia 1. Ehi, Cam. Mi hanno presa il nostaggio. Mi serve un medico che fermi l'emorragia. Siamo le 1 e fatti guidare. Jake Gillenall. Stiamo cercando di salvare il polizioso. Camille non può farlo. Ambulance. Ci sono, ci sono. Giovedì alle 21.20. Giovedì alle 21.20.